Ogni partita è una storia a sé, Modena arriverà qua sicuramente con l'intenzione di portare a casa tre punti e sono convinto che partiranno subito molto molto aggressivi. Vibbo si prepara alla sfida contro Modena in scena al Palavalencia, anticipo della nuona giornata. Dopo Perugia dunque arriva un'altra forza del campionato, attualmente terza. In conferenza stampa per presentare il match i due ex di turno, coach Tubertini e Jacopo Massari. È una partita di campionato, abbiamo incontrato Perugia, adesso incontreremo Modena e insomma metto Modena veramente allo stesso valore di tutte le altre squadre che stiamo incontrando. Abbiamo degli obiettivi, abbiamo obiettivi di fare punti e avremo il proposito di fare punti anche contro Modena. Mia ex squadra, insomma sono contento di incontrare Modena però ripeto in questi momenti dove si è molto concentrati su se stessi io sono un attore di Vibbo e sono molto felice di essere a Vibbo. Trovo una squadra dove ho giocato l'anno scorso, una grande squadra, una grande società e quindi c'è tanta emozione però sono contento di ritrovarla con Vibbo, quindi di avere la possibilità di giocarci contro in questo campionato di Superlega e quindi sarà una partita emozionante. Sicuramente qualche giocatore lo conosco abbastanza bene, però sono grandi giocatori quindi sono informazioni che sanno anche loro, sanno tutti e è difficile che queste mie informazioni possano cambiare la partita, assolutamente, però qualcosa è stato detto. Maria Chiara Sigillo per la C News 24